Ciao ragazzi, eccoci ancora su Far Cry 3 per iniziare la seconda mezz'ora di gioco. Allora, il primo video della prima mezz'ora mi è stato contestato per la musica, quindi adesso ho disattivato la musica, sperando che non ci siano scene video che partono da sole dei filmati e che non mi contestino anche quelli perché sennò già lo mollo sto gioco. La differenza è tra chi agisce e chi sta fermo. Ok, ce la posso fare. Una volta ero uno straniero come te, non sei solo amico mio, aspettiamo te per iniziare l'attacco. Jason, Danny stia dato il tatau, ora devi combattere. Puoi attaccarli di sorpresa, dalla distanza o arrivare di nascosto. A te la scelta. Punti. Un cazzo, un fucile non ha... Non ce l'ho un cazzo di fucile. Posizione arma, ho tutto fuori al primo interno. Allora, tieni premuto uno per vedere le armi. Usa, per vedere un'arma, X per tornare all'arma precedente. Non ho un cazzo, ho solo la pistola. Aspetta che abbasso un pochettino la sensibilità. Impressioni, calibrazione, luminosità, gamma, non è qui. Comandi, comandi, invertimola, sensibilità, visuale. Ok. Autica. Ok. 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 Mi sa che dobbiamo andare a liberare qualcuno No, tutto è Muoversi furtivamente C Accucciati, riduce il rumore Oddio questo posto Ok Ok Adesso però Ok Adesso ce l'ho il fucile, cazzo Ehi È un cadavere Eh? Lisa, sono qui Oh, è un cadavere il rumore Ah. Che c'è. Oh. Che c'è. Ciao. Oh. Ciao. Andrà tutto bene. Sono andati. Ora sei al sicuro. Non è qui. L'avrapposto vicino da Banache è sotto attacco. Dov'è la prigioniera? L'abbiamo persa. Cosa? È scappata verso ovest in questa cazzo di isola. Ti spiego quando arriviamo lì. È scappata. Jason, sei degno del tuo Tatao. Degno di calcare la via del guerriero. Abbiamo trovato un tuo amico dal colone. Il dottore Earnhardt, a ovest. È un posto sicuro. Non temere. Il dottore ti sta aspettando. A ovest. Ti ha detto di che amico si tratta? No, non me l'ha detto. Ma continueremo a cercare gli altri. Se scopro qualcosa, ti chiamo via radio. Cammina a testa alta, Jason. L'attributo ti ammira molto. Ok. Ok. Grazie a tutti. Punta, munizioni, pistola, mitra, fucile d'assalto, fucile di precisione, lancia granate, consumabili, mappe speciali, fucile d'assalto, in uso, munizioni, pistola, pistola, inventario, munizioni mitra, shotgun, munizioni fucile d'assalto, 90, munizioni, cioè la K-47 è un cazzo di fucile d'assalto, quindi, munizioni, punta. Le unità di munizioni per l'arma sono complete, crea forse più grandi, ok, quindi, cucetta, le munizioni per l'arma sono complete, ok, quindi, lancia granate, 2.000, la madonna, indietro, creatrice, speciali, consumabili, cosa c'è? No, medicina no, indietro, speciali, arco, 925, impossibile comprare, sufficienti per la spesa, 2.000, 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 2 Dietro Dietro Allora Andiamo a prendere un po' di roba qua Perché Dobbiamo fare un po' di soldi E' un po' di soldi Questa cazzo torre radio Una foglia però qua da prendere Questa cazzo torre radio Trovi di Raikad Cerca l'icona sulla mappa Avvicinati alle rocce colorate nell'ambiente Tieni premuto i piedi per cominciare la prova Marta Prodi Raikad Andiamo a prendere la macchina Bene andiamo a fare sta prova Completa le prove Raikad per ottenere ricompense Continua a giocare per competere con i tuoi amici Controlla le classifiche per i punteggi record Ok Raggiungi il luogo indicato Via del cacciatore sulla mappa Caccia gli animali per ottenere il rispetto dei Raikad Raikad Devi usare le armi e le munizioni fornite oppure un macete Trova gli animali nella zona di caccia sulla minimappa Ok Zenzero dorato Zenzero dorato Ricercato per il suo spettone unico Molti usano i fiori per fini decorativi Altri l'interpreteranno pure come simbolo di fertilità Tira un paio di fiori di zenzero a tuo marito e correrà a letto È una cosa buona Novo spostamento rapido Spostamento automatizzato Nuova attività Nuova attività Nuova attività Nuove ricerche Due ricerche ricercato Obiettivo Non posso dare la macchina 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 Sono in pieno Non posso dare la macchina 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 Porco juda oh, sta cazzo di hiena oh. Oh! Oh! Grazie a tutti. Ma come cazzo si fa a morire così? Vai a parlare con il Dottor Engard. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.